è tutta appaiata aiuto no mi armi aiuto Greta no l'acqua no allora prendiamo questa cucina dove la stai portando no ciao a tutti lui è lui e lei è Sofì e noi è Greta benvenuti in un nuovo daily vlog il me contro te alla riscossa insieme a Greta saluta Greta vogliamo vedere cosa ha in mano ma quelli sono squishy a forma di cibo fai vedere cosa sono facciamoli vedere bene questo cos'è? la bocca con la bocca sono le patatine fritte e questi cosa sono lo sai? i pop è una parola che non conosce i popcorn i popcorn ma Greta non sai che abbiamo un regalo per te? si va 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 è proprio così no non proprio è un regalo gigante lo vuoi? si ok visto che siamo in tema cibo direi che è il momento di prendere brava Greta stai seduta che arriva il regalo secondo te cos'è? proprio la bucce tra le bacce e l'orso Greta è il tuo grande giorno finalmente potrai cucinare mi cotto ti piace? si è bellissima mi cucini qualcosina? oh che bello che bello mi cucini la pasta? ok grazie con il pentolino si col pentolino e adesso cosa mi cucini di bello? un dolce? un dolce un dolce che bontà la marmellata? del cucchiaio fammi mangiare Greta mi dai da mangiare? si grazie ho tanta fame e questo cos'è? cosa c'è scritto lì? miele miele e certo Barcia è insieme a un orso gli orsi mangiano il miele a te piace il miele? si vediamo lo vuoi assaggiare? non c'è niente non c'è niente vediamo che delusione Greta guarda qua cos'è questo? il forno aprilo vediamo cosa c'è dentro wow il forno metti dentro il dolce mettiamo dentro il dolce chiudi così si cucina aspettiamo tic tac tic tac tic tac il tempo scorre greta ma è pronto il dolce? vediamo no ma è buonissimo voglio assaggiarlo me lo dai tu? no no questo non si mangia è uno chef che prima di far assaggiare le cose gli ospiti lo assaggia lei e questo? e questo cos'è? una forchettona? si e cosa? e questo cos'è? io appendiamoli queste cose appendiamole qua così oh caduto voglio mettere l'acqua l'acqua? ma dove? no qua qua no non si può mettere è finto non si può mettere l'acqua vera si lo voglio eeeh greta non si può fare no greta non mangiare quello ti fai male i dentini voglio l'acqua eeeh lui vuole l'acqua hai capito? vai a prenderla l'acqua eccomi arriva l'acqua si allora spostiamo la torta di Mettilli e mettiamo l'acqua guarda uooo ah 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 no no ma non devi mettere la crostata dentro l'acqua la crostata va qui o al massimo nel forno no lui non sai fare niente no aiuto prendiamola la crostata con questa cosa qui guarda si sta faiando tutto no hai bagnato tutta l'acqua piano greta greta piano con l'acqua ahhh greta dammelo lì no 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 non dire queste cose ahhh ahhh no no c'era un po' di entusiasmo vai greta vai 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 mamma mia cosa stiamo combinando aiuto asciughiamo 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 ma stiamo asciugando io eh greta la tua mamma non sarà molto contenta quando ti vedrà tutta bagnata non credi ciaaaaa continuo a mangiare quel dolce finto greta vieni qua un attimo vieni qua ma c'è uno scherzetto a lui l'acqua vince su tutto neanche uno scherzetto com'è è buono lavato tadaaa wow un bel dolce lavato gocciolante gocciolante ora pulisci tu sai pulire asciughi tutta l'acqua che c'è per terra no come no si adesso l'asciughi tu ma cosa è diventato una spugnetta piena d'acqua ma io non ci credo è tutto bagnato guardate qua e mi sa che è tempo di pulire sofi l'avevo capito guarda beh non so se lo state vedendo ma è tutto completamente bagnato greta greta mi sa che è stata una pessima idea quella di mettere l'acqua tu sai passare l'astrofinaccio non è un biberon devo dire che come sempre essere babysitter non è per nulla semplice babysitter no lui dobbiamo togliere quest'acqua la situazione ci sta sfuggendo di mano prendi un bicchiere non ciò dobbiamo toglierla è tutta bagnata aiuto 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 greta no l'acqua no allora prendiamo questa cucina dove la stai portando no non vedo così no non puoi non piangere tranquilla adesso lo riportiamo non dovevamo mettere l'acqua no no sta arrivando sta arrivando eccola di nuovo qui no ok pochissima guarda un po' c'è si si la tocchi guarda che bagnata tutto bagnato no non è tutto bagnato il biscotto cioccolato il biscotto cioccolato il biscotto cioccolato si non so tu l'hai lanciato sei tutta bagnata mamma mia aspetta ti devo asciugare prendiamo l'asciugacapelli ok ok ti asciugo io ok ok Greta dammi la manica dobbiamo asciugare ok essere baby sitter è veramente tremendo baby sitter aiuto no no che è successo prima dobbiamo asciugare le maniche ok le tolgo la maglietta ok ok è tutta bagnata e franica e cosa mettiamo ti metto una mia maglietta vediamo se ne viene ti metto questa mia maglia Greta ti piace si è la maglia delle trote si trote è la nostra nuova maglia guardate che figa se la volete prendere anche voi la trovate sul sito mecontrote.it slash shop piace anche a Greta la trovate solo ed esclusivamente sul nostro sito tutte quelle che trovate in giro in altri siti sono solamente false penso sia un po' grande effettivamente un po' si però facciamo il nodo ok guarda guarda con il vestitino ti viene la vestitina ma cos'è una tunica il fantasmino Greta le sta benissimo fantasmino ti fa scivolare ragazzi voglio provare a farle una sorpresa guardate tu hai già capito tutto si cosa hai capito un regalo un regalo che bello oh mamma mia e la pancia penso di aver mangiato troppo Greta secondo te che cos'è il pancione è morbido guarda tocca ha mangiato troppo forse vero guardate qui che strana questa pancia vuoi provare anche tu a spremerla si ha una pancia squishy oh mamma mia non dovevo mangiare tutte quelle pizze mi sta scoppiando la pancia aiuto sta uscendo sta uscendo un'arancia un'arancia è una mega arancia squishy è tutta tua Greta è più grande della tua faccia anzi è più grande di te guarda guarda quante squishy e non si apre è uno squishy guarda morbidissimo non si apre voglio voglio lo successo apre 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 pensa che questo si apre e che dentro ci sia una sorpresa amore non è così è questa la sorpresa c'è qualcosa che non va no non ci sta non ci sta qui dentro ma si dai proviamo a metterla in forno vai proviamo allora la mettiamo e tu spingi ok spingi dai 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 forza forza non c'entra è troppo grande e dove va secondo te nel lavandino va oppure un cappello vediamo il tuo oh che bel cappello cappello arancia ecco lo squishy è più grande nel mondo Greta ma ti sei seduta sopra l'arancia si è morbida vediamo fammelo provare è anche un bel cuscino vediamo ci dorme no no non si dorme non si dorme mai dire questa parola perché a Greta non piace dormire è giusto salta 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 dormi bambino sei una piccina no no non voglio dormire no devi dormire no non voglio dormire dove 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 tu luigi dove chi tu luigi cosa dove chi tu luigi quel cuscino non capisco dormi tu luigi quel cuscino ok prova a dormire e io buonanotte mamma mia ha distrutto la cucina no aspetta aspetta Greta ti salvo io ti salvo io via la cucina ah ah che gambe il fantasma sta volando attento lo squishy mettiamolo qua sopra è il cappello della cucina una palla prendila a volo vai ma adesso Greta dopo aver giocato esserci scatenati aver bagnato l'universo cosa si fa si sistema te lo dico io quindi sistemiamo mi aiuti ok mettiamo tutto in ordine questo dove va qua qua eh no lei mi sa che vuole continuare a saltellare sullo squishy mi sa che dovremmo sistemare noi prendiamo coltello pentole e cosini buchierellati e li riposiamo qui qua appendiamo questo appendiamo questo e mi sa tanto che Greta si sta per attormentare da qui è tutto da Greta Sofì e lui dai me contro te no non è tutto no mi sbagliavo cliccate su Sofì aiuto cliccate su Sofì per iscrivervi al canale e invece cliccate qui per vedere il video di ieri noi vi mandiamo un bacione un abbraccio e ci vediamo domani con una novissima avventura ciao 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 ciao